Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo. È in transito una perturbazione atlantica molto veloce da nord-sud, questa porterà ancora delle piogge. Nelle prossime ore sulle regioni adriatiche del meridione poi avanzerà l'alta pressione che ci regalerà un proseguo di settimana tutto sommato stabile, via via sempre e più mite. Per quanto riguarda questo martedì ancora delle precipitazioni possibili in Abruzzo, specie sul Vastese, Val di Sangro, Pescarese, i settori appenninici anche con nevicate però in alta quota, al di sopra dei 1800 metri di altitudine, un po' più asciutto sulla Marsica, la conca aquilana più al riparo dei monti. La maggior concentrazione di nubi, addensamenti e precipitazioni sarà lungo i tratti costieri e i settori a sud della nostra regione. Poi dalla sera avremo un netto miglioramento praticamente ovunque in quanto si rinforzerà gradualmente l'alta pressione. Le temperature sono attese in lievissimo calo, bassi meno oltre i 14-16 gradi. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento. Grazie.